Sono sempre di più i casi di peste suina africana in Piemonte e Liguria. 14 nella provincia di Alessandria, 2 in più rispetto alla settimana scorsa, trovati a Silvano d'Orbra, Quattascrivia e altri 6 in Liguria. Numeri che preoccupano, certo, ma che rientrano ancora nelle zone rose dell'epidemia, nei 114 comuni tra l'Alessandrino e le province di Genova e Savona. Ad aumentare però non sono solo i casi di PSA, ma anche la sicurezza e le squadre di volontari, in particolare nella regione piemontese, quella più infetta, che durante il fine settimana si radunano nei boschi per cercare carcassi di cinghiali e sottoporre l'analisi dell'Istituto Zooprofilattico di Torino. Tra sabato e domenica, infatti, i cacciatori, forze dell'Ordine Protezione Civile e Senzacani, hanno setacciato le aree più colpite dalla malattia. In Liguria, invece, la situazione sembra essere più tranquilla negli spazi al verde, ma non nelle autostrade, dove invece sono state ritrovate due carcasse nei presi della 26 e A7, l'invenimento che ha fatto scattare un'immediata collaborazione con Autostrade per l'Italia per ripressionare le recinzioni delle due tratte interessate. Ma se da una parte la situazione sembra essere sotto controllo, con supervisione e dispezioni, d'altro canto non si può dire lo stesso per i suini sani, soprattutto maiali rinchiusi negli allevamenti, di cui il governo ha disposto l'abbattimento. Ordinanza che non sta piacendo per niente all'Associazione Agricola degli Animalisti, che continuano a lamentarsi, tra cui anche la rete dei santuari agli animali liberi, che dice «Non staremo a guardare, non permetteremo che vengano abbattuti individui ai quali abbiamo permesso la libertà per rispondere alla disposizione della regione Liguria, che però, proprio in queste ultime ore, ha chiarito un punto molto importante. All'abbattimento, infatti, saranno destinati solo i capi da ingrasso o da riproduzioni, destinati generalmente al macello, mentre quelli che rientrano in altre attività potranno non essere abbattuti». Questa mattina a Roma, intanto, il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, e quello della Liguria, Giovanni Totti, sono a Roma per chiedere al governo l'istituzione di un commissario interagionale che possa aiutare ad affrontare questa emergenza nazionale, tutti con parti colpiti, a cominciare da quello agricolo.